Vi presento la band, Hot Bass, l'uomo fenomeno, Andrea Moneta, la percussione e chissà quante altre cose ancora. Grazie a tutti i miei fans. Un peggio alla mia estrema destra per quel condizio, Marco Pandozzi. Grazie a tutti. Dei non c'erano le mani del diavolo, a chise, molti. Alla chitarra e altre cose che non interessano a nessuno in questo momento. Edoardo Martínez. Edoardo Martínez. Edoardo Martínez. Edo 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 Martínez. Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione